Signore e signori, sono molto contenta e mi fa molto piacere che il premier italiano Matteo Renzi di nuovo ci ha fatto l'onore della sua visita qui a Berlino. Il mio cordiale benvenuto, credo che viviamo in un'epoca, in un tempo con grandi sfide, questo incontro si è svolto in questo ambito con spirito europeo che ci unisce nell'essere determinati a portare avanti l'Europa e della consapevolezza che necessitiamo a questa Europa. Ricordo con vivo piacere la mia ultima visita in Italia a Milano a Expo a metà agosto quando siamo stati appunto all'Expo di Milano che di nuovo ci ha confrontato con le sfide globali e con le risposte che il mondo e quindi anche l'Europa deve dare a queste sfide. Poi abbiamo discusso molto intensamente su come intensificare la nostra cooperazione bilaterale, su come rafforzarla e su come ravvivarla. L'anno prossimo sarà molto interessante, da una parte ci sarà la presidenza del Gizit dell'Italia mentre la Germania assumerà la presidenza del G20 e questo nello stesso anno dei 60 anni, 60esimo anniversario dei trattati di Roma. Quindi sicuramente potremmo lavorare lì molto molto insieme. Poi abbiamo discusso anche sulle sfide per quanto riguarda la creazione dei posti di lavoro. Il premier italiano Matteo Renzi è già partito con una riforma molto ambiziosa, con una vera e propria agenda di riforma. Adesso vediamo come passo per passo questa agenda viene attuata, realizzata, le riforme strutturali sul mercato del lavoro, il famosissimo JobSec che secondo me si muove nella direzione giusta, ma anche tutte le strutture dell'intero sistema in Italia. Vorrei augurare una mano felice a Matteo Renzi espressamente per quanto riguarda il successo di queste riforme, perché il successo di queste riforme sarà un contributo importante all'avvenire dell'Europa e dell'Italia innanzitutto. Poi abbiamo constatato che in tutto quello che stiamo facendo, i nostri scambi economici sono molto intensi, procediamo sempre in base all'idea del best practice, dove si trovano le soluzioni più competitive, migliori nel mondo intero. Per questo, per quest'anno in Germania, l'anno prossimo in Germania, vogliamo organizzare una conferenza economica, noi due, con i due ministri dell'economia che si occuperanno del tema dell'industria, della digitalizzazione, potenziamento della banda larga e del 4.0. Così possiamo vedere come garantire ancora maggiori sinergie tra loro, dove possiamo imparare l'uno dall'altro. Poi chiaramente abbiamo parlato della questione dei profughi, da una parte dell'agenda UE-Turchia, la cui attuazione adesso è urgente, perché abbiamo bisogno di progressi. Io ho presentato a Matteo che sulla rotta dei Balcani occidentali ogni giorno si trovano 2.000 persone per essere d'inverno, questo è un alto numero di profughi e soprattutto dobbiamo combattere l'illegalità. Questo significa combattere il traffico di esseri umani e nel frattempo già abbiamo potuto dare l'avvio a una lotta efficace contro questi passatori, gli scafisti. E questo in seguito alla morte di 800 persone che hanno perso la vita nel mare Egeo. Invece anche nel mare Egeo ci sono stati ben 700 merti nel mare Egeo, a volte c'è poca distanza tra un'isola e l'altra, il continente, e anche quest'anno già sono morte 150 persone. Dobbiamo combattere l'illegalità e dobbiamo trasformare tutto quanto in legalità. Giovedì prossimo insieme saremo presenti alla conferenza di Londra sulla Siria e sull'aiuto da dare ai profughi siriani in Libano e in Giordania, ma anche ai profughi interni alla Siria. E poi abbiamo parlato anche di misure di stabilizzazione, appunto la stessa conferenza di Siria, ma anche le attività per stabilizzare un altro paese, quale è la Libia. E lì la Germania e l'Italia possono fare ancora di più insieme. Possiamo mandare missioni militari per l'addestramento e l'istruzione delle forze di sicurezza, perché abbiamo un interesse massimo affinché anche l'altro lato del Mediterraneo, di fronte all'Italia e quindi la Libia, passo per passo, si trasformi in una struttura statale stabile, con vere e proprie strutture statali, per impedire sviluppi illegali anche in materia di profughi. Nel 2017 l'Italia organizzerà la conferenza sui Balcani, quindi c'è un forte interesse anche per la stabilizzazione dei paesi dei Balcani occidentali, anche su questo abbiamo parlato e discusso e anche abbiamo parlato sulla questione del referendum britannico. Noi siamo concordi nel ritenere che faremo tutto quanto, alla fine l'ultima parola aspetta i cittadini inglesi, faremo di tutto per tenere l'Unione, il Regno Unito nella nostra Unione Europea. Come vedete ormai il tempo a disposizione è stato poco, comunque erano colloqui veramente amichevoli. Vorrei ringraziarti Matteo e sono sicuro che da questa tua visita scaturiscano nuove iniziative per il futuro che porteranno avanti insieme la Germania e l'Italia, due paesi che sono strettamente legati da forti vincoli di amicizia. Grazie Angela, grazie di cuore per l'invito, grazie per l'accoglienza. È la quarta volta che io ho il piacere di visitare questo bellissimo palazzo, la terza da primo ministro, sempre su invito di Angela. E devo dire che sono molto felice del fatto che grazie agli sforzi ovviamente del popolo italiano, del governo italiano, ma anche grazie alla buona collaborazione europea e con gli amici tedeschi, per la prima volta forse sono qui non con un elenco di impegni, di promesse, ma con un elenco di riforme, di risultati che per noi è molto importante. L'Italia non è più, come è accaduto in una fase recente del nostro passato, il problema dell'Europa. L'Italia ha voglia di fare la propria parte come è doveroso che sia e come la storia del nostro paese ci impone di fare. E da questo punto di vista credo che siamo in un momento delicato della storia dell'Europa. Personalmente ne avverto tutta la responsabilità. È un momento di grande importanza. Credo che l'Italia sia unita alla Germania dal desiderio di dire che noi vogliamo più Europa, un'Europa più forte, più efficiente, più capace di dare risposte a tutti i problemi, da quello dell'immigrazione a quello dell'economia a quello dell'innovazione. Angela ci ha proposto, e io sono molto lieto di accettare, di fare dei lavori condivisi soprattutto sul tema dell'economia, della manifattura 4.0, dell'innovazione digitale, della banda larga. Su questi temi le nostre economie sono molto vicine. Ci sono pezzi di economia del nord-est che sono legati a doppio filo con l'economia tedesca. E il fatto che in Italia finalmente ci sia un inizio di ripresa è un fatto positivo. Pensate che nei primi 11 mesi del 2015 l'import di prodotti tedeschi in Italia è aumentato di oltre il 7%, che vuol dire che non è un buon dato per il PIL purtroppo, perché l'import naturalmente va a abbassare il PIL, ma è il segno che finalmente la ripresa in Italia è toccabile con mano anche dalle aziende tedesche, che sono a noi legate da un rapporto di grande amicizia e stima. Credo che ci sia bisogno di una grande discussione sul sistema dei valori europei. È un momento nel quale la scommessa comune sui rifugiati vede la Germania e l'Italia dalla stessa parte, dallo stesso lato. Noi pensiamo che ci vogliano delle regole chiare, che queste regole vadano affrontate, vadano rispettate, vadano in qualche misura verificate giorno dopo giorno. L'Italia è dunque pronta a fare la propria parte su questo. Conosciamo il dramma degli esseri umani comprati e venduti dagli scafisti. In Italia c'è un'espressione che è simile, ma è ancora più dura. Per me più che scafisti questi sono degli schiavisti. Sono delle persone che schiavizzano gli altri. E quindi facciamo di tutto, siamo pronti a fare ogni tipo di sforzo in questa direzione e anche a superare, se vi sono state, le incomprensioni che pure si sono registrate. Non su tutto, naturalmente, siamo d'accordo in particolar modo per quello che riguarda alcune opinioni, anche che derivano dalla diversa appartenenza a diverse famiglie politiche, ma crediamo insieme che combattere la disoccupazione oggi in Europa significa combattere il populismo. Il nostro avversario è lo stesso, è il populismo, è chi cerca di mettere in discussione e minare l'idea stessa di Europa. Per me, perlomeno parlo a livello personale, è fondamentale riuscire a fermare una strategia di crescita economica proprio per andare a combattere la disoccupazione e per andare a combattere quindi il populismo. Infine, rispetto alle questioni che ha posto Angela sul 2017, trovo che sarà molto interessante lavorare insieme. La Germania è un grandissimo Paese, avrà l'onore di presiedere il G20, noi presidieremo il G7, abbiamo anche concordato insieme le date, vogliamo che nel rispetto dei diversi consessi si possa fare un'agenda per alcuni aspetti comune e sicuramente sarà comune l'impegno nei Balcani e l'impegno sui 60 anni dell'Unione Europea. Dunque ci sono molte cose, ci sono molti punti che ci uniscono, sono maggiori rispetto a quelli che ci dividono. Quello che io trovo importante è esattamente quello che Angela ebbe modo di dirmi a Milano durante una cena che abbiamo fatto con le rispettive famiglie. Angela ebbe un'espressione che io considero molto interessante circa la crisi culturale che può vivere il nostro continente, la perdita di ideali e di valori. Tu parlasti allora del rischio maia per la cultura europea. Io sono molto d'accordo con Angela su questo. Noi abbiamo bisogno di un'Europa che torni a essere degna di se stessa, degna del proprio passato. Ovviamente non su tutto potremo pensarlo allo stesso modo. Quello che credo sia assolutamente fondamentale è che rispetto alle sfide che abbiamo davanti ci sia la consapevolezza di due grandi paesi, due grandi paesi fondatori dell'Unione Europea, che hanno avuto vicissitudini in passato ma che oggi hanno il desiderio di esprimere parole forti per un'Europa che viaggi in modo totalmente diverso da quella che abbiamo visto nell'ultimo periodo. Perlomeno questa è la mia opinione. Quando sento alcune espressioni sull'Europa, io da convinto europeista mi sento male e domani sarò in un'isola italiana. Era un'isola dove i fascisti mandavano gli avversari politici. È l'isola di Ventotene, il carcere di Santo Stefano. In quest'isola domani vorrò visitare i luoghi dove Altiero Spinelli, un grande italiano, ebbe modo di parlare allora degli Stati Uniti d'Europa. Oggi non è all'ordine del giorno, ma l'ideale europeo sì, e sono convinto che Germania e Italia insieme potranno affrontarlo e difenderlo. Signora Cancelliera federale, lei ha parlato di profughi. Qual è il punto adesso da fare? Dopo sei mesi, dopo sei mesi fa sono caduti i muri e i recenti. Adesso dove è rimasto quel progetto? Il Dublino. Ah, sta parlando di Dublino. Dove è rimasto Dublino adesso dopo sei mesi di questi sviluppi? E com'è la situazione adesso con la Turchia? Il finanziamento del programma che è stato fissato con la Turchia? E quindi questo finanziamento è già garantito? Appunto, la questione dei finanziamenti della Turchia è stata affrontata oggi nel dettaglio e se in qualche modo c'è un passo avanti da parte dell'Italia su questo problema. Bene, noi abbiamo prima parlato della Libia, del Mediterraneo e abbiamo visto prima lo sviluppo venendo dai flussi dal sud, da Libia e poi invece adesso da alcuni mesi da parte della Turchia e quindi il flusso migratorio si è spostato chiaramente. Quello che adesso è iscritto all'Unione del Giorno è la protezione delle nostre frontiere esterne e quindi una lotta all'illegalità e anche correttezza nel trattamento dei profughi. Noi dobbiamo, la leva deve essere la lotta alle cause di queste fughe. Quindi un migliore approvvigionamento, una migliore situazione dei profughi in Libano, in Giordania, in Turca, poi il controllo dei confini marittimi e questo controllo dei confini marittimi può funzionare solamente se parliamo anche col vicino, in questo caso la Turchia. Certamente siamo concorti nel ritenere che questo programma EU e UE, Turchia deve essere attuato, 3 miliardi, ma anche la Turchia deve dare. Alcune cose hanno già fatto, hanno facilitato le possibilità di lavoro, soprattutto per i profughi siriani, li hanno migliorati e dall'altro canto hanno anche adottato misure in materia di visti. Sì, siamo nel pieno dei colloqui con loro, però deve essere nell'interesse reciproco trasformare l'illegalità in legalità, riducendo nello stesso tempo il numero dei profughi che vengono da noi, dotando sufficientemente i programmi dell'ONU, dando aiuto anche per Libano, per la Giordania. E questo sarà anche oggetto della conferenza della prossima settimana a Londra, dove ci rivetteremo di nuovo. Quindi ci deve essere un calo sostenibile, sensibile dai profughi che vengono in Europa, la chiara intesa che quando non necessitano di tutela devono tornare indietro e quindi quando vengono per ragioni economiche. Però dobbiamo lottare insieme contro le cause di queste fughe e dobbiamo imparare a proteggere giustamente meglio i nostri confini marittimi. Noi conosciamo per mille motivi le difficoltà che derivano da un afflusso smodato di donne e uomini che certo vengono qui non perché qualcuno li chiama come sostiene una propaganda abbastanza sterile e insulsa, ma vengono qui perché fuggono dalla morte, fuggono dalla fame, fuggono dalla guerra. Conosciamo dunque molto bene i problemi, di conseguenza siamo disponibili e volenterosi di fare la nostra parte. Ne abbiamo parlato con Angela. Non abbiamo nessun problema né con la Turchia né con la Germania. Sul finanziamento dei 3 miliardi sulla Turchia l'Italia è da sempre disponibile. Lo abbiamo detto fin dal corso del vertice del 29 di novembre a Bruxelles. Lo abbiamo ridetto nel vertice di dicembre. Stiamo aspettando che le istituzioni europee ci diano alcune risposte su dei quesiti che abbiamo formulato per le vie brevi sul modo di intendere e concepire questo contributo e gli altri necessari all'immigrazione, ma non c'è nessun dubbio sul fatto che l'Italia è disponibile a fare la propria parte. Quello che vorrei sottolinearvi è che voi giornalisti italiani conoscete bene il senso di solitudine che si prova quando sembra che un problema riguardi solo un Paese. Per mesi il problema dell'immigrazione sembrava essere soltanto un problema italiano. Adesso sappiamo che è un problema europeo. Noi dobbiamo fare uno sforzo perché la mia opinione è che durerà dei mesi, forse addirittura degli anni, non si risolve in una settimana. Quindi rimuovere le cause, ha detto Angela e io sono d'accordo con lei, intervenire con un lavoro a monte quando tu visiti una scuola a Beirut e vedi i bambini siriani, figli di profughi, che sono lì e che fanno il turno del pomeriggio nella scuola perché al mattino ci vanno i libanesi. Ti rendi conto che qui c'è un dramma umano straordinario in corso. Abbiamo bisogno quindi di rimuovere le cause, diplomazia, cooperazione internazionale e sono personalmente grato ad Angela per le parole di apprezzamento che l'ha avuto nei confronti del nuovo capo di UNHCR che è un nostro concittadino, è un cittadino del mondo, si chiama Filippo Grandi ma ne siamo davvero tutti molto orgogliosi. Insieme dobbiamo lavorare e fare di più. Dunque non c'è nessun problema con la Turchia, perlomeno da parte nostra, con la Giordania, con il Libano, con i paesi africani. Speriamo che le risposte che abbiamo chiesto a Bruxelles in ordine alla computazione di questi denari possano arrivare il prima possibile. Aggiungo e termino. Se l'Europa perde Schengen, a mio giudizio l'Europa perde se stessa. E quindi di conseguenza ogni sforzo che possiamo fare per mantenere vivo l'ideale europeo deve essere uno sforzo da fare insieme. Non un singolo paese può essere lasciato solo. Vale per i rimpatri, vale per il diritto di asilo, vale per le modalità di tutela dei confini e delle frontiere. E voglio rassicurare l'opinione pubblica tedesca che se in passato vi sono state delle procedure rese difficili da mille questioni aperte in Italia, Oggi il lavoro che fa la polizia italiana, che è sempre straordinaria come sempre, è ormai praticamente al 100% della registrazione delle impronte digitali ma anche dei riconoscimenti facciali. Noi facciamo anche le foto perché per un'esigenza di sicurezza, oltre che per un'esigenza di rispetto delle regole. Un'esigenza di sicurezza che io trovo assolutamente sacrosanta. Dunque da questo punto di vista, quando potremo poi investire denari sulla cyber security, avere anche le immagini e i volti sarà molto utile per contrastare il terrore e l'eventuale problematica di sicurezza. Quindi il lavoro italiano va avanti, però non dimentichiamo l'ideale. Se perdiamo Schengen, perdiamo l'Europa. Io sono della DPA, prima una domanda al Presidente del Consiglio. Una soluzione europea della crisi dei profughi finora si è reso molto difficile. Abbiamo visto che è difficilissimo. Abbiamo sempre più parlato di una coalizione, di una coalition of willing, di quei paesi che sono disposti a fare qualcosa, che insieme vogliono fare qualcosa. L'Italia vuole partecipare a questa coalizione dei volonterosi. È una domanda alla cancelliera dell'Italia. Non si è mai parlata quando si parlava di questa coalizione dei volonterosi. Si parla dell'Austria, della Sveta, della Finlandia. C'è qualcosa in movimento per quanto riguarda questo aspetto, di questa coalizione dei volonterosi? Noi facciamo parte di una coalizione, non so se di volenterosi o di obbligati, dovendo rispondere al problema dell'immigrazione, da quando ancora l'immigrazione non era un problema sui giornali europei. Siamo stati in prima linea, possiamo far parte o no, dei volenterosi, quando c'erano da raccogliere purtroppo dei cadaveri in mare, quando c'era da salvare la vita dei bambini in mare, quando una parte dell'opinione pubblica europea era contro di noi. Anzi, voglio ringraziare Angela perché nel Consiglio europeo di giugno, quando ancora la problematica non era esplosa con tutta la sua forza in Germania, Angela fu decisiva alle due di notte, insieme a François e ad altri leader, per affermare il principio che l'Italia stava cercando di far affermare, e cioè che il problema fosse europeo. Lo ha fatto prima che ci fossero tensioni in Germania. Dunque, io non so cosa lei intenda per coalizione dei volenterosi, le dico cosa intendo io. Noi da anni abbiamo migliaia di persone che arrivano nel nostro Paese, decine di migliaia, centinaia di migliaia, perché da quando la Libia non ha più un governo stabile l'afflusso di profughi nel nostro Paese è stato importante. Adesso vogliamo far parte di un comune lavoro anche nell'area balcanica, anche le persone che arrivano da est. Noi, per esempio, abbiamo visto ridurre il numero dei siriani. Nel 2014 erano 40 mila, nel 2015 sono diventati soltanto 6 mila. Perché? Perché la rotta balcanica ha portato praticamente tutte le persone in questa parte dell'Europa. E quindi, di conseguenza, siamo certo disponibili a fare la nostra parte a condizione che noi non dimentichiamo mai qual è l'ideale che ci muove. E cioè l'Europa è nata battendo i muri, non costruendo i muri. L'Europa è nata per affermare un ideale di fraternità. e naturalmente non tutti possono arrivare in Europa. Ci devono essere delle regole. Ci devono essere delle regole europee per i rimpatri, europee per l'accoglienza. Tutti devono avere le stesse regole. L'Italia sotto questo profilo è pronta a fare la sua parte. Bene, l'Italia fin dall'inizio, nella prima metà dell'anno scorso, è stato il paese maggiormente colpito, è stato il paese degli sparchi. I profughi non venivano d'altro, arrivavano proprio con i loro sparchi. Solo da giugno, da aprile, maggio, giugno, le cose sono cambiate. Ma noi siamo stati i primi per lottare per una più equa ridisposizione dei profughi in Europa. E perciò abbiamo detto che abbiamo bisogno di un nuovo sistema che sarà presentato dalla Commissione della Primavera di quest'anno e abbiamo bisogno di una migliore protezione delle nostre frontiere esterne. E vediamo con i confini italiani, con la nostra missione mediterranea, anche con il nostro modo, vedete, con le nostre navi, c'è innanzitutto salvataggio degli esseri umani in mare, ma anche fase 2, lotta ai trafficanti di esseri umani. Ancora non ci possiamo avvicinare alle coste libiche semplicemente perché non c'è ancora un governo libico. Ma comunque questa missione mediterraneo è coronata dal successo. Forse l'Italia non ha partecipato per quanto riguarda i Balcani occidentali, perché si tratta di un'altra rotta, ma l'Italia è un nostro fortissimo alleato per quanto riguarda la politica per i profughi e per quanto riguarda l'orientamento fondamentale in questa politica. Buongiorno, Marco Conti del Messaggero. Volevo chiedere una cosa al Presidente Renzi, non alza la Cancelliera. Presidente Renzi, vorrei chiedere, avete discusso anche di flessibilità e dell'utilizzo della flessibilità per gli anni a venire e di tutte le clausole, comprese quella che citava prima anche lei su immigrazione e sicurezza. E alla Cancelliera volevo chiedere, lei ha ricordato che tra breve presiderà la Germania il G20, tornerà il problema della Cina, siete pronti a riconoscere al Paese lo status di economia di mercato? Ne avete discusso? Grazie. Rispetto alla questione della flessibilità, la Commissione europea ha adottato il 13 gennaio del 2015 una comunicazione sulla flessibilità. Questo è per noi il punto di riferimento. Noi non stiamo chiedendo come Italia di cambiare delle regole. Noi stiamo chiedendo che le regole siano applicate senza equivoci sul fatto che per noi la flessibilità è una condizione necessaria dell'accordo che ha portato all'elezione di Jean-Claude Juncker, non come Paese membro, ma come partiti politici. Il piano degli investimenti è la flessibilità. Io non ho cambiato idea sulla flessibilità, spero che non lo abbia fatto neanche Jean-Claude Juncker. C'è una discussione tra di noi che credo sia legittima. Abbiamo sulla politica economica non sempre la stessa posizione. Condividiamo il fatto che dobbiamo investire sull'innovazione, sull'economia legata alla manifattura 4.0, che pensiamo che il digitale sia un grande asset per il futuro dell'Europa. Contemporaneamente su alcune dinamiche di gestione dello Stato e delle politiche economiche non la pensiamo allo stesso modo. Non è una novità. Però quello che deve essere chiaro, e lo dico in particolar modo all'opinione pubblica tedesca, più che a quella italiana in questo caso, è che in questi due anni l'Italia ha messo mano a delle riforme che erano attese da vent'anni. Non è stato facile fare una riforma del mercato del lavoro in un anno e farlo seguendo i parametri di Maastricht, senza violare i parametri di Maastricht. Non è stato facile intervenire finalmente, io dico, sulla legge elettorale, sulla riforma della Costituzione, sulla semplificazione della pubblica amministrazione, ridurre il carico della giustizia civile in una dinamica di crisi dopo tre anni di recessione. Ma adesso che lo abbiamo fatto, questo permette all'Italia di essere di nuovo un Paese in grado di tornare a avere il segno più davanti, non più il segno meno. Alla luce di questo, nessuno ha dubbi sul fatto che il debito in Italia debba scendere. Il debito italiano è un debito per molti aspetti sostenibile, è un debito che ha una grande presenza di risparmi privati, che è il doppio rispetto al debito pubblico, quindi ha caratteristiche che non creano preoccupazione. Ma noi siamo i primi a dire che dobbiamo far scendere il debito. Non lo dico per fare un piacere ad Angela, lo dico per fare un piacere ai miei figli, ai miei nipoti. Il debito in Italia inizia a scendere rispetto al GDP, rispetto al PIL, perché noi abbiamo preso un impegno con gli italiani, non perché è una richiesta europea. Quindi da questo punto di vista non c'è alcun dubbio. La flessibilità è una condizione dell'elezione di Jean-Claude Juncker, non credo che lui abbia cambiato idea, però quello che è importante è che si sappia chiaramente che l'Italia non crede che si possa tornare a politiche allegre di bilancio. Tuttavia, allo stesso tempo, per me le politiche di austerity da sole non funzionano. Le politiche di austerity da sole portano alla sconfitta dei governi. Le politiche di austerity da sole non aiutano l'Europa a ripartire. Non so se su questo la pensiamo allo stesso modo su tutto, ma questo non vuol dire che ci diciamo le cose con il sorriso e con grande condivisione dell'ideale comune, che è quello di lottare perché l'Europa stia meglio del passato. Bene, la cosa bella è questa che anche quando si tratta di una comunicazione della Commissione sulla flessibilità, che ambedue noi accettiamo che comunque a livello di interpretazione ci sono opinioni divergenti, ma l'interpretazione, meno male, spetta alla Commissione, non a noi. Quindi io non mi mischio in queste cose. e quindi questo, appunto, ripeto, è compito della Commissione valutare e decidere su questa questione. In consiglio poi ne prendiamo atto. Per quanto riguarda la Cina, la Commissione si trova nel mezzo di una procedura se a Cina può essere riconosciuto lo status di economia di mercato. Noi abbiamo un atteggiamento di apertura, vanno risolte comunque tutte le questioni tecniche. Credo che nei prossimi mesi riceveremo un rapporto della Commissione. credo che ambedue abbiamo parlato con la dirigenza cinese sull'importanza di questo per la Cina. Poi ne parleremo, poi in serie di consiglio ne parleremo molto francamente e apertamente. Signora Cancelliera, la prima domanda a lei. Lei ha appena detto che possibilmente, auspicabilmente, che è una domanda, è una sola domanda. Prima a lei, poi al Presidente del Consiglio. Lei ha parlato di una possibile missione di istruttori per le forze di sicurezza in Libia. Può essere concreta? E al Presidente del Consiglio un'altra domanda. Prima di questa sua visita è stato discusso in che modo anche la Turchia possa contribuire, e l'Italia possa contribuire ai soldi in favore della Turchia. Quindi lei oggi ha assicurato alla Signora Cancelliera che l'Italia darà il suo contributo. Per quanto riguarda l'istruzione delle forze di sicurezza, non ci sono ancora particolari dettagli. E' chiaro che noi dobbiamo aiutare queste forze di sicurezza. Dovranno essere istruiti e allenati. L'Italia ha qui un forte impegno anche per la questione di un governo unitario. La Germania ha fatto altrettanto, quindi potremmo procedere insieme. Ma l'istruzione e l'allenamento non sarà in Libia, chiaramente, pensi in Tunisia. E quando comincerà tutto quanto dipende da quando veramente si potrà parlare di un vero e proprio governo unitario per capire come possiamo fare per migliorare l'apparato di sicurezza in Libia. Mi sembra di averle già risposto. L'Italia ha detto sì al contributo in Turchia il 29 novembre. Non abbiamo cambiato idea. Stiamo aspettando che gli amici della Commissione dell'Unione Europea rispondono a alcune questioni che io giudico di dettaglio e che mi auguro possano essere chiarite presto. Mi piacerebbe prima della conferenza di Londra, per molti motivi. Alla Commissione sono molto impegnati, ma hanno sempre delle occasioni di fare conferenze stampa o di dialogare con i giornalisti. Quindi avranno sicuramente il tempo per poter affrontare questo problema. Detto questo, voglio dirle che il nostro rapporto con la Germania è un rapporto che ci vede uniti praticamente in quasi tutti gli scenari, forse tutti, in Afghanistan, in Libia, nell'area dei Balcani e dell'Africa. Dunque noi condividiamo lo stesso ideale e lo stesso obiettivo. quello che oggi è fondamentale per noi è spiegare che l'Europa ha bisogno di una strategia complessiva, non spot, non one shot. Non è possibile che di fronte a un dramma come quello della migrazione, che durerà per mesi, forse per anni, la gestione sia su singoli punti senza una strategia complessiva. Sono assolutamente certo che la leadership della Germania e degli altri paesi e anche dell'Italia abbia questo obiettivo, quello di rispondere di fronte alle responsabilità storiche che abbiamo davanti del valore di un'Europa che sa rispettare le regole e che contemporaneamente non chiude gli occhi di fronte al dolore del mondo. Lo stiamo facendo in Libia, lo stiamo facendo in Siria, lo stiamo facendo in Turchia, in Libano, in Giordania. Continueremo a farlo insieme, dando anche una spinta e uno stimolo perché l'Europa sia l'Europa dei valori e degli ideali e non soltanto l'Europa dei codicili e delle burocrazie.